La giustizia è la condizione per cui una società accetti, riconosca e applichi un insieme di norme e leggi e che esse siano considerate giuste. In altre parole, ogni società ha bisogno di una concezione condivisa di giustizia. Nei secoli essa è stata definita come equilibrio, legalità, garanzia di libertà o di uguaglianza sostanziale. Tuttavia non vi è un concetto unico e immutabile di giustizia, ma esso cambia da società a società evolvendosi nel tempo. Da un punto di vista giuridico, la giustizia è uno dei principi fondanti, nonché la ragione d'essere, degli organi giudiziari. Ciò si manifesta in diversi principi e regole che tali organi devono seguire per applicarla in maniera effettiva. Tra queste vi è il diritto ad un ecoprocesso, ossia che ogni causa sia esaminata equamente, pubblicamente se è dentro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale. La presunzione di innocenza, fino a quando la colpevolezza di un imputato non sia stata legalmente provata, e il principio di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene, cioè secondo il quale nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che non costituiva reato nel momento in cui è stata commessa e a nessuno può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Grazie a tutti.